salutare, lo ringraziamo per essere con noi, il dottor Enzo Larosa, mentor di MIP di Murata Idea Park e docente di Sati. Grazie per essere con noi, dottor Larosa. Grazie Eva, buongiorno, è un piacere essere qui. Oggi so che con lei parleremo come fare impresa, ma soprattutto di cosa succede tipicamente alle imprese in determinati momenti della loro vita, cercando anche di capire come alcuni di questi elementi che vedremo possono davvero fare la differenza in caso di scenari economici e politici critici come quello che poi tra l'altro stiamo vivendo in questo momento, dottor Larosa. Sì, beh, esatto, quello che dici è proprio uno dei dei temi più importanti che oggi le imprese devono affrontare, perché purtroppo la situazione contingente che si è venuta a creare porta le imprenditrici e gli imprenditori a dover ragionare proprio in un modo diverso, a cambiare quelli che sono i loro paradigmi e la modalità con cui l'impresa viene fatta, soprattutto perché oggi il problema principale è che la difficoltà e le difficoltà che si trovano ad affrontare non sono diretta conseguenza delle loro azioni, ma è per una conseguenza indiretta. Stiamo uscendo da una pandemia mondiale, stiamo affrontando una drammatica guerra alle porte dell'Europa e i costi dell'energia stanno profondamente mettendo in ginocchio le aziende. Questo porta a dover ripensare il modo con cui viene fatto impresa. È un punto fondamentale che oggi ogni entità imprenditoriale deve mettere a fuoco il fatto che dobbiamo cambiare la visione e quindi anche il concetto di sostenibilità da un principio individualistico in cui si possono essere mosse le aziende negli anni passati fino a un tempo recente ad un principio legato a un discorso di networking e di ecosistema. In primis per esempio per la condivisione delle risorse e quindi proprio per andare ad abbracciare principi di sostenibilità, di economicità e soprattutto di forza di quelli che sono poi i modelli imprenditoriali di cui abbiamo bisogno nel nostro paese. Ecco, ma quali sono allora veramente delle soluzioni da poter mettere in campo subito e da poter consigliare? Assolutamente. Uno degli aspetti principali che sia nel mio lavoro sia nell'attività che faccio alle murate vediamo di più è l'allineamento quantomeno dal punto di vista iniziale della compagine sociale. Cioè i soci devono riallinearsi e capire se la visione di come deve essere portata l'azienda, di come deve essere portata avanti è ancora attuale perché quello che abbiamo visto anche nelle start up ma in generale nelle aziende che è la compagine sociale che rende l'azienda un'azienda di successo. Quindi il primo elemento è il riallineamento dei soci, quindi ritrovarsi, definire quelle che sono le attività necessarie e quindi questo è un altro pezzo della soluzione che è quello di implementare sicuramente all'interno dell'azienda, un presupposto di controllo di gestione, quindi analisi sia dell'aspetto economico e finanziario ma soprattutto pensare ad un percorso indispensabile oggi di digitalizzazione all'interno delle aziende. Senza ombra di dubbio, ma allora come si lega la digitalizzazione a questi intenti? Allora la cosa più importante da capire nell'ambito della digitalizzazione è che una volta attuata è un valore aggiunto per l'azienda, cioè certe attività vanno a ridurre i costi che l'azienda va a sostenere. Il problema è che è un investimento, quindi nel momento in cui viene introdotta la digitalizzazione richiede uno sforzo, uno sforzo aggiuntivo ma soprattutto un allineamento e qui si ritorna al discorso che facevo prima dei soci che si devono confrontare e allineare, soprattutto nel fatto della comprensione, perché spesso e volentieri nelle aziende viene rifiutato il principio di digitalizzazione perché viene detto non abbiamo tempo di farlo o non abbiamo i dati esatti. Ecco, quella è la mentalità che deve essere superata e deve essere accolto all'interno dell'azienda questo investimento. Oggi non si può più fare a meno del concetto di digitalizzazione perché quello che prima era il mercato del passaparola per cui il mio cliente mi suggeriva ad un'altra persona avviene tramite la rete. La trasformazione di quello che è il mercato, si stanno aprendo nuovi mercati recentemente con le murate, abbiamo fatto un incontro in camera di commercio legato alla blockchain con, sono intervenuti molti imprenditori, il professor Zatti della facoltà di economia di Firenze e quello che è venuto fuori è che la blockchain per semplicità di concetto è un nuovo mercato quindi ed è un mercato che vive online quindi o l'imprenditore e l'azienda riesce ad accogliere questo principio o semplicemente rimane fuori da un mercato che è anche molto ricco quindi non è un mercato che non può essere fatto, cioè è un mercato che deve essere fatto necessariamente attraverso la digitalizzazione e questo è uno dei tanti esempi, l'e-commerce, i social media, ci sono tanti modi, noi stessi stiamo comunicando, io sto parlando attraverso Streamyard, se non ci fossimo digitalizzati questo strumento non saremmo in grado di utilizzarlo e limiteremmo molto il nostro potenziale di comunicazione. Ecco questo va sottolineato e non ci dimenticheremo mai insomma di ricordarlo che se non altro con tutto quello che c'è stato dovuto alla pandemia abbiamo anche proprio siamo entrati proprio in contatto con questi nuovi mezzi e lei dottore La Rosa ha fatto l'esempio di Streamyard, noi prima prima della pandemia non utilizzavamo Streamyard, gli ospiti e quindi venivano direttamente in studio, era un piacere per carità insomma lei stessa se non c'era Streamyard semmai se non poteva venire in studio la sentivamo al telefono ma adesso insomma anche le radio come sappiamo insomma sono le radio vanno anche in video e quindi è giusto e un'altra cosa anche perché poi hai l'opportunità di vedere le persone e senza ombre di dubbio il periodo della pandemia non solo per l'azienda ma anche per il singolo cittadino per comunicare per vedere quelli che erano i parenti ha iniziato a utilizzare questi mezzi e quindi di farsene proprio propri conoscerli approfondirli anche. esatto ma in particolar modo l'esempio che facevi tu Eva è voi avete accolto gioco forza se vogliamo da un certo punto di vista per il discorso della pandemia ma ci sono tante realtà che hanno rifiutato anche durante la pandemia l'uso di questi strumenti invece una realtà come la vostra ha accolto questo strumento e ognuno di voi collettivamente individualmente si è messo si è rimboccato le maniche e ha detto fammi vedere come funziona questo strumento quindi avete dovuto impiegare del vostro tempo diciamo che la direzione dell'azienda ha detto bene questo è il luogo dove vogliamo andare pensate se ci pensa se ci fosse stato qualcuno che remava contro e quindi rendeva tutto questo non possibile quindi innanzitutto ci deve essere una comunanza di intenti se questa comunanza di intenti non c'è si rischia grosso poi da questa comunanza di intenti che viene trasmessa a tutti gli stakeholder si direbbe portatore di interesse all'interno dell'azienda ognuno fa il suo piccolo lavoro positivamente proattivamente per migliorare la situazione e ad oggi anche passata la pandemia possiamo continuare a usare questi strumenti pensiamo banalmente al risparmio dei costi di spostamento che un'azienda sostiene o non sostiene è chiaro il vedersi in presenza ha una qualità e una ricchezza della relazione maggiore però ad oggi che dobbiamo contare il centesimo perché pensiamo appunto ai costi dell'energia quindi la coperta è corta se io ho un'occasione una chance una possibilità di andare a risparmiare da qualche parte che sia far uscire tutte le persone dall'azienda che hanno degli appuntamenti ottenerle e sfruttare uno strumento sostanzialmente a costo zero quanto è Streamyard per esempio Meet ce ne sono tantissime di queste piattaforme è comunque in questo momento un risparmio che io vado a mettere nel mio piccolo salvadanaio probabilmente per pagarmi le spese della dell'energia elettrica. Certo si è parlato proprio questa mattina insomma del tema nel leggere del mattino del venerdì in smart working per 1200 dipendenti comuni comunali è la proposta appunto di Palazzo Vecchio certo sta che comunque bisogna anche attrezzarsi quindi mettersi in sicurezza questo mi rivolgo soprattutto alle aziende tra l'altro colgo l'occasione dottor La Rosa per ricordare anche l'appuntamento che ci sarà subito dopo di lei insieme al gruppo E dove ci occuperemo proprio della sicurezza informatica ecco l'incubatore di impresa murata e di a park quindi insomma le aziende cosa possono trovare? Allora l'incubatore è parte di quel discorso che facevo all'inizio della necessità di creare degli ecosistemi delle relazioni e dei network per aiutarsi vicendevolmente le murate idea park nasce per supportare le start up e quindi noi abbiamo le nostre call in cui accompagniamo le start up nel loro processo di design del loro modello di business ma siamo arrivati ad un livello di maturazione di maturità diciamo della di questo progetto per cui adesso la possibilità di essere di supporto alle aziende e di creare un luogo dove le aziende fanno network sia con le start up che fra di loro è diventata sia una possibilità sia una necessità perché in questo modo possiamo andare a creare delle nuove possibilità delle nuove soluzioni come quella che banalmente facevamo l'esempio del avere una call in streaming e va a risparmiare dei costi da una parte ma ci possono essere tante altre alternative o fare comunicazione insieme per prodotti quindi superare anche l'aspetto della competitività fra aziende e entrare in un discorso di partecipazione alle murate questo è possibile quindi oggi non solo le start up ma anche le aziende possono entrare in contatto con questo incubatore che a sua volta ha un network molto esteso pensiamo per esempio ad ampio raggio di cui uscirà l'intervista del presidente martedì prossimo nella nostra rubrica al mi poner quindi questo network può essere utile per andare a velocizzare per esempio il contatto con altre realtà e quindi per esempio sempre ad abbassare alcuni costi a favore dell'incremento dei ricavi perché poi infine quando si parla di azienda è sempre questo il ragionamento quando parlavo di controllo di gestione è l'analisi dei numeri che mi permette di andare a capire su che elementi io devo andare ad agire come imprenditrice imprenditore. Grazie davvero al dottore Enzo La Rosa mentor MIP e docente Sati grazie davvero per essere stato con noi esperto in consulente. Grazie a te sempre un piacere. Grazie davvero vogliamo ricordare insomma che a tutti gli ascoltatori che proprio alla Sati sono aperte le iscrizioni per il nuovo corso di gestione di imprese in partenza proprio mercoledì 2 novembre che chiuderanno lunedì 24 ottobre tutte le informazioni le trovate su www.sati.it ma noi